E' un punto incontaminato della Murgia Andriese nel Parco della Grave, ai piedi di Castel del Monte. Qui si incontrano i percorsi lenti per turisti che viaggiano a piedi o a bordo di mountain bike. La ciclovia in particolare si estende fino a Santa Maria di Leuca ed è proprio qui, in questo luogo di sosta dei viaggiatori, che Coppa Leanza 3.0 ha donato un Biotel, una casetta per gli insetti impollinatori, un bene unico da preservare per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. Il Biotel contiene strutture progettate per ospitare diverse tipologie di insetti impollinatori utili all'agricoltura, come api selvatiche, farfalle e coccinelle. I soci Coppa hanno deciso di devolvere una parte di fondi raccolti con la restituzione dei punti al progetto Ogni Ape Conta, per la tutela degli impollinatori e delle api, che tanta parte rivestono nella salvaguardia dell'ecosistema e soprattutto nell'assicurare la tutela delle biodiversità al fine di consentire che anche le generazioni future possano godere di un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato noi. L'iniziativa è stata promossa con il Comune di Andria e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, quest'ultima da tempo impegnata in azioni che vadano a preservare gli insetti impollinatori, ma non solo fondamentali per l'equilibrio naturale del territorio. Siamo reduci da un'edizione in Senato per il disegno di legge, dove abbiamo dato il nostro contributo sul disegno di legge a tutela degli insetti. Stiamo portando avanti un importantissimo progetto premiato dal Ministero della Transizione Ecologica che si chiama Alta Murgia, un parco per api e farfalle, dove stiamo conducendo un monitoraggio in campo che ha individuato 107 specie di api e 81 specie di farfalle. Stiamo sensibilizzando cittadini agricoltori attraverso webinar e bioblitz, stiamo costruendo la carta di vocazione apistica e soprattutto abbiamo realizzato un'app che sarà utilizzata da tutti i parchi italiani, che metterà a sistema in un unico database tutti i dati dei monitoraggi, dando informazioni omogenee sulla distribuzione di api e farfalle in tutte le regioni italiane. Il biohotel donato si trova ridosso dell'azienda agricola, posta della Grave, che presto offrirà ai viaggiatori un punto informazioni per conoscere meglio ciò che il parco attorno a Castel del Monte ha da offrire. La presenza della cassetta per gli insetti, impollinatori in questo luogo aggiunge ulteriore valore. In questo posto praticamente a breve prenderà vita un contenitore, un punto d'appoggio, un posto in cui il turista lento potrà trovare accoglienza. Qui vi è un quadrivio di ciclisti e di turisti che passano appunto a piedi. Il biohotel qui diventa qualcosa di istruttivo? Sicuramente qualcosa di istruttivo.